Gloria Zanin è stata eletta Miss Italia nel 1992. È nata a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza il 15 agosto del 1975. Si trasferisce a Milano dove intraprende la carriera di modella, lavorando per Ferré, Crizia, Missoni e Chanel. Allo stesso tempo però si dedica anche all'attività di presentatrice, che considera essere la sua vera passione. Esordisce nelle TV private venete, per poi approdare sui canali nazionali. Dal 1994 al 2000 presenta sulla Rai Sanremo Giovani, anteprime Miss Italia, Mio Capitano e Miss Italia nel mondo. Nel 2005 giunge per lei anche il momento di debuttare su Canale 5 come attrice, nella serie TV Carabinieri 4, per la regia di Raffaele Mertes. Nel 2007 partecipa e trionfa al programma Il Migliore, presentato da Mike Bongiorno su Rete 4, nella serata dedicata alle Miss. Dal 2009 al 2010 ricopre il ruolo di inviata nel programma Quelli che il calcio, condotto da Simona Ventura. Nel 2007 ha sposato il calciatore Simone Tiribocchi, con il quale ha avuto Emanuele, che oggi ha circa 10 anni.